camp jeep 2019 una pacifica invasione di jeeper ha colorato le dolomiti in un caldo weekend di luglio san martino di castrozza e le imponenti pale di san martino hanno fatto da sfondo alla sesta edizione del camp jeep il più importante evento del jeep owners group è stato un grande successo oltre 700 suv jeep e più di 1500 persone a dimostrazione del legame speciale tra il brand e i suoi appassionati avventure off-road con gli istruttori della jeep academy oltre a sport all'aria aperta barbecue attività per bambini concerti dal vivo sino alla spettacolare conclusione con la jeep parade che ha raggiunto il passorolle a quota 2000 metri un'edizione eco sostenibile per l'allestimento dell'area camp jeep sono stati utilizzati 100 metri cubi di tronchi ovvero 250 tonnellate di legno provenienti dagli alberi crollati nei boschi delle dolomiti durante i paurosi temporali che hanno sconvolto queste splendide montagne nello scorso ottobre il modo migliore per poterli smaltire e permettere così di rimboschire l'area gli occhi degli appassionati sono stati catturati dal nuovo gladiator svelato dal vivo in anteprima proprio al camp jeep 2019 segna il ritorno del marchio nel segmento dei pickup dopo 27 anni questo nuovo modello che arriverà nelle concessionarie il prossimo anno è un veicolo adatto a qualsiasi avventura all'aria aperta in europa sarà equipaggiato col nuovo motore ecodissel v6 di 3 litri da 260 cavalli di potenza massima esiste anche una versione alimentata a benzina si tratta del propulsore pentastar v6 di 3,6 litri e 285 cavalli per ora disponibile esclusivamente in medio oriente e altri mercati extra europei entrambe le motorizzazioni sono abbinate a un cambio automatico a otto marce so what makes gladiator unique if I had to pick one thing I would start with the open air freedom that gladiator provides doors off top off windshield down no vehicle can get you in touch with nature quite like gladiator can do again if there is one unique feature and there's a lot I would point to the open air freedom that gladiator provides but we believe this is not for an everyday mass market pickup truck driver this vehicle is intended for someone that's got an active lifestyle both at home and at work but they need to balance the best of both worlds someone that wants to get away in the weekends maybe to the mountains maybe to ski maybe to the beach but at the same time they need the space of a truck bed that gladiator provides so really the best of both worlds no no question about it I mean a Jeep that's what we're all about is going anywhere do anything and what better way to do that than with the gladiator that you see behind me an amazing and amazing opportunity for customers to get the best of both worlds uno bianco e uno nero in a young del fuoristrada Jeep ha mostrato le due configurazioni per vivere gladiator pick up la versione nera con l'artop montato e una mountain bike nel cassone mentre quella bianca era tutta aperta con le portiere smontate e il vetro anteriore ribaltato sul copo entrambe in allestimento rubicon possono trasportare comodamente cinque persone tra le chicche una telecamera frontale nascosta tra le griglie del radiatore perfetta in fuoristrada permette di vedere tutti gli ostacoli prima di affrontare insieme all'intera gamma Jeep ha fatto il suo esordio anche la nuova Jeep Wrangler 1941 designed by Mopal lo spirit di avventura si rinnova assolutamente sì e lo facciamo col Wrangler che appunto ha la vettura giusta per poter fare questo tipo di avventure offroad ma non solo anche su strada abbiamo diciamo sostituito le sospensioni un'attività un lavoro che facciamo all'interno di Mopal la vettura è più alta di circa due pollici e oltre a questo ci sono anche delle protezioni laterali che consentono appunto un utilizzo un po' più esasperato rispetto al normale utilizzo della vettura oltre a delle applicazioni all'estetico che migliorano l'estetica del brand Mopal è una è un brand del gruppo che è a servizio dei brand quindi dei nostri clienti diciamo che la la vendita l'offerta degli accessori è quello che più normalmente si vede ma in realtà Mopal che sta per motor parts si occupa anche della distribuzione dei ricambi su tutta la regione in EMEA ma non solo e offre ai nostri clienti la possibilità di essere assistiti all'interno delle nostre officine con delle procedure che disegniamo noi di Mopal a totale servizio dei nostri clienti